Ciao ragazzi e ben tornati al mio canale, io sono T e siamo qui oggi tornati con un video particolarissimo Come avete letto da titolo, infatti ad ogni morte guarderò un anime storto, o meglio un episodio di un anime storto Prima di iniziare però dobbiamo cercare di superare almeno i 900 mi piace se volete che altri video simili a questo escano in futuro Solo al raggiungimento dei 900 mi piace ne porterò altri Detto questo come funziona? Vi faccio una brevissima intro e poi vi lascio al gameplay Semplicemente io scelgo un gioco, in questo caso è quello di Black Ops 4 In cui andrò a fare una partita online e in base a quante volte morirò nella partita Dovrò guardare un episodio di un anime brutto, perché passatemi la parola Che magari mi consigliate anche voi qua sotto nei commenti tranquillamente in live su Twitch Quando deciderò di fare la penitenza, ovvero quando avrò tempo, vi avviserò con un piccolo video su YouTube Un post nella parte community e potrete vedere in live la mia sofferenza mentre guardo questi episodi Oltretutto gli highlight di quella live appunto in cui guarderò gli episodi verranno poi caricati sul canale YouTube Quindi ragazzi vi ho detto il funzionamento è molto semplice Ogni morte che faccio nel gioco corrisponde ad un episodio di un anime brutto Che voi mi potete consigliare qua sotto nei commenti o che scelgo io Posso farlo su altri giochi, posso farlo con altri anime Quindi se volete che la serie vada avanti mi raccomando lasciate un mi piace Vi ricordo poi di iscrivervi se non siete ancora e di attivare la campanella Per rimanere sempre aggiornati e se volete condividete anche il video Non mi aggiungherei quindi oltre, buona visione Perché that match già è iniziata su Arsenal tempesta? Che schifo Però deve ancora iniziare Allora giochiamola Cavolo di arma uso Non so se essere un ninja e andare con la K silenziato Ah iniziamo con il VAPR Perché non ho mira? Giocando senza mira ho visto 47 armi DLC nei personaggi Cioè DLC nuove Devo ricordarmi di avere stick move soprattutto E non devo morire tante volte Non ho messo le streak Non giocherò lasciando qualsiasi cosa si muova Però non starò neanche fermo Non avrebbe senso a quel punto Spero solo di non fare più di 12 morti e dovermi vedere un anime intero Che mi fa potenzialmente schifo Qua sicuramente è spawnata gente Cazzo Ok Eh vabbè Già due così Uno No c'è il pompa No c'è il pompa Eh sta morte Niente non potevo evitarla Ne avevo due davanti Tra cui uno col pompa Quindi non è che potessi Ecco anche io sono un genio Però non ho capito Tanto ho paura che me lo demonetizzi A prescindere Tanto non è quello il problema Che arma è questa per D? Non gioco a B4 da veramente tantissimo Io non è che non voglio challenge i nemici È che i nemici non so dove stanno Ma raga dopo che cacchio stanno Io vedo kill su kill Ma non vedo i nemici A parte che non si vede niente in sta mappa Quindi non li vedrai neanche da due centimetri No raga non lo vedo Non lo vedo Aia Ok Raga io vi giuro sulla mia vita Che oltre a quella mirata schifosa Perché come vi ho detto nell'intro Non gioco a COD Da quando ho compiuto 19 anni C'è un anno e mezzo fa Più o meno Vabbè Cavolate a parte Comunque non gioco a COD Da tantissimo in più Mi è capitata una mappa In cui non vedo i nemici Perché non li vedo Ma è un cannone questo coso Poi ovviamente Ragazzi gioco un attimino più tranquillo Anche per il semplice fatto Che non è che vorrei vedermi Un anime entero schifoso Ecco Senza cuffie tra l'altro Quindi non sento i passi Non so dove Dove cazzo stanno Scusatemi Dove Oddio sto tirando le streak Cor tasto laterale Ayut Ma questo è qui Non ho Dammi sto va No c'è fuoco rapido sto coso Eh vabbè niente Non ho più l'agilità Di premere 47 tasti insieme Comunque sto a 8-2 Che schifo Cioè nel senso Sono positivo E come Ma la squadra sta a 33 kill I nemici Stanno a pochissimo Questo a spectre Pensavo me lo attivasse In faccia Voi giuuu No 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 Colpi Cioè l'enziamento è a cui cazzo Che vengo io che sto a fare una Ma ha messo uno scudo Quello Sì però Non è che potete fregarmi Tutte le kill Capito che io c'ho una mira schifosa Però non è Ah ok Sapete che non so usare spectre L'ho preso perché visto che in alcuni video Che guardo ogni tanto Che fa i peggio massacri Ma non lo so usare Porca Che cazzo stavi sparando Te scusami Non lo so usare Non so i tasti Da vediamo Rotola Appuntamento Ah così Non so usare spectre Ragazzi È tipo uno specialista mostruoso Ma non lo so usare 14 Trema Stiamo a 49 punti Durareà 40.000 anni Sta partita Lì c'è uno scudo Lì non posso andare Perché No no C'è anche un L'automira Chi cacchio ma No regà No regà No regà No regà No regà No regà Eh vabbè però Allora lì c'è uno scudo Dietro ho lo specialista Che mi utilizza L'ondata di calore Su sto gioco veramente Gli specialisti sono Il male Allora c'è una mira che fa schifo Va bene Questo è appurato Però porco cane Non fa schifo quanto vuoi Negli angoli Come l'ho ucciso Se non avessi Cioè se non fosse stato scarso La mia mira avrebbe Rippato Uno Oddio Non scap Ma Ma Non Ok Cinque morti sono già A cinque episodi A cinque episodi Ragazzi Ma Ascolta Perché io non lo vedo E lui mi vede Uno Due C'è il terzo qui Le cazzarola Guardalo Guardalo Io non lo vedo Ma perché lui mi vede Cioè io vedo il nome Perché devo vedere il nome Che cos'è Il Galil Da quando hanno messo il Galil Su Oh puttana Eva Su sto Ok Da quando hanno messo il Galil Su sto cod Comunque Sicuro c'è qualcuno qua dietro A parte che c'è lo spawn Qua dietro Excuse me What the fuck Ma stavano tutti qua dentro Fammi capire Giusto per comprendere Sei episodi A parte che sto facendo 23 Sei che schifo Però va bene Ovviamente i nemici Stanno facendo il peggio kill Perché ha il team storto Chi ce lo deve avere Indovina Oh mio dio Cosa stavi facendo No eh Si sa mai che prenda qualcuno Dammi lo speedfire Dammi lo speedfire Non il Galil Cazzo Lo speed Ma Oddio è molto simile a quello Oddio è il Galil alla fine Quindi Cazzo dico è molto simile a quello degli altri cod Per fo Per forza è simile a quello Non Mi sono un attimino Mindfaccato un attimo Non so usare spectre Cioè ho fatto du morti con spectre Vieni qui Entra Entra subito Entra Basta Ah prima ho usato l'abilità Poi Urca puttana Dammi le cure E che cacchio Excuse me What the fuck Come cazzo Giocano questi Scudi E che cavolo Ma ha tirato un colpo con la demon La demon è troppo forte La demon 8 Devo guardare i miei 8 episodi Finitela Giuro che si muoio un'altra volta A fine partita 33-8 Partita veramente noiosa Che vi avrò tagliato tantissimo Quindi devo vedere i miei 8 episodi Live su twitch 8 episodi di un anime Che non mi piace Live su twitch Perfetto Tra l'altro risultato Con un rato 4 Ma che non mi piace A parte del mio team Vabbè Non mi piace troppo come risultato Ma va bene così È una challenge Quindi buona la prima Ovviamente altrimenti non avrebbe senso Andrò a cercare il risultato Quindi ragazzi Se volete seguire la penitenza Vi ricorderò che a tempo debito Su twitch La troverete Ma soprattutto vi avviserò Con un mini video su youtube Un post sulla community E insomma con questi due metodi Vi rimanderò all'effettiva penitenza Di cui poi prenderò gli spezzoni migliori E ricaricherò sul tubo Però se volete vedere Completamente Quindi gli 8 episodi Con me Volete soffrire con me Cioè twitch Lo faremo insieme Probabilmente in due pomeriggi Una cosa di questo tipo E quindi ragazzi Passate se volete soffrire con me Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto E se è così ti lascia un mi piace Un commento E di scherzo non siete ancora Un saluto a mattina Ciao ragazzi A me passione Una sola voce Semplice emozione Vieni ad ascoltare Con la tua iscrizione Puoi trovare la famiglia Che credevi non ci fosse Per la felicità E di scherzo non ci fosse